Le api non fanno parte del mondo. Le api sorreggono il mondo. Il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Salerno, anche a seguito dell'incremento nella provincia di Salerno degli infortuni sul lavoro nei cantieri dall'inizio dell'anno 2021, ha intensificato i controlli. Nello specifico, i militari del NIL, coadiuvati dall'arma territoriale, all'esito dei servizi posti in essere nei mesi di febbraio e marzo, hanno deferito alla Procura della Repubblica 10 titolari di imprese edili per violazioni inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, adottando 10 provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale, di cui 7 per la presenza in cantiere di lavoratori in nero e 3 per gravi violazioni del protocollo anti-covid-19. Sono invece 18 i titolari di imprese edili sanzionati per la mancata attuazione del protocollo anti-covid-19. Nei confronti dei titolari delle imprese edili sottoposte a verifica, che non hanno rispettato le norme basilari inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro, all'esito dei controlli sono state irrogate sanzioni amministrative ed ammende per circa 65.000 euro. Le attività di controllo proseguiranno anche durante le festività pasquali ed interesseranno tutto il territorio della provincia.